Udine, 28 settembre 2017, non può essere condannato a Legastolo perché il figlio, che ha ucciso nel 2013 era solo adottivo. Farà discutere la sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso a Andrei Talpiz, 57 anni, originario della Moldova, che la notte del 26 novembre 2013 a Remanzacco, Udine, colpì mortalmente con un coltello da cucina il figlio adottivo di 19 anni. Il ragazzo, si apprende dal difensore di Talpiz, avvocato Roberto Mete, era stato formalmente adottato dalla coppia in Moldavia. Dovrà ora svolgersi un nuovo processo? La Corte di Cassazione, ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise ed Appello di Venezia per la quantificazione della pena, prescrivendo che non scenda sotto i 16 anni di reclusione.